Musica Droga smantellato, il mercato rionale, operazione dei carabinieri a Benevento, nove arresti, lo spaccio in pieno giorno e persino nell'atrio degli uffici pubblici di regione e provveditorato. In alcuni casi la droga veniva venduta e consumata direttamente nelle case dei pusher. Rifiuti a Napoli, emergenza, in città non solo le periferie ma anche rioni sanità e decumani invase dai sacchetti. Centinaia di tonnellate a terra, situazione sempre più difficile. Asia sotto accusa, il comune chiede alla regione di conferire direttamente all'inceneritore di Acerra. Truffe e falsi incidenti, c'è anche un medico, un avvocato, due giudici di pace ed anche un camice bianco in servizio all'ospedale Loretto Mare di Napoli nella cricca dei finti incidenti. Secondo la procura di Roma, capo dell'organizzazione Ciro Gioia del foro di Avellino che sarà interrogato nei prossimi giorni. Bonifiche di sesto, il piano di De Luca, la bonifica del fiume Sarno che deve proseguire con la collaborazione dei comuni ma anche gli investimenti contro il dissesto idrogeologico. Il governatore De Luca ha fatto tappa stamattina a Scafati e sulle regionali dice basta con la politica politicante, noi parliamo con i fatti. Rivolta degli autisti, i bus restano fermi a Napoli, conducenti dell'ANM, si rifiutano di uscire, sospese 60 linee su 110, l'azienda avvia le misure disciplinari contro i ribelli. Una rappresaia dopo il controllo degli ispettori, la furia di De Magistris, o cambia tutto o chiudiamo l'azienda. Auto in fiamme, mistero ad Avellino, paura nella notte in piazza Kennedy, a fuoco una Kia, il rogo ha danneggiato anche altre vetture nelle vicinanze. Indagano i carabinieri della compagnia Irpina per accertare la natura dell'incendio. Buon pomeriggio a quelli che abbiamo appena seguito insieme, erano i nostri titoli del TG News regionale del canale 696. E come avete sentito in primo piano c'è la maxi operazione antidroga scattata all'alba di oggi nel capoluogo Sannita. Un vero e proprio mercato rionare dello spaccio di eroina, quello stanato dalle forze dell'Ordine 9, gli arresti all'alba. E intanto lo spaccio avveniva prevalentemente a Rione Libertà anche in atri di numerosi uffici pubblici, proprio della città di Benevento. Ci racconta tutto Alessandro Fallarino. 9 persone in carcere, 20 quelle segnalate per detenzione ai fini di spaccio di droga, in particolare eroina. Questi numeri del blitz antidroga messo a segno questa mattina dai carabinieri a Benevento, che hanno notificato le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Emesse dal GIP del Tribunale Sannita, su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini dei militari che hanno consentito di smantellare un giro di spaccio che avveniva prevalentemente nel cortile degli uffici pubblici della Regione e dell'Ufficio Scolastico Provinciale, al Rione Libertà. È preoccupante che sia all'interno di un rione molto popolare e popoloso, come diceva lei, ma sotto gli uffici pubblici si procedeva a confezionare gli stupefacenti con un bilancino sopra una panchina pubblicamente, come dire, esposta su una pubblica via, su una pubblica piazza. Dà il segnale, come dire, della scaltrezza, ma anche in qualche modo della prepotenza, dell'arroganza di chi svolge questa attività. Pizza e vino, i nomi dati alla droga dagli spacciatori, che speravano così di farla franca durante le intercettazioni. Sconcertante anche la rivelazione di uno degli acquirenti, che ha spiegato ai carabinieri l'escamotage per non essere fermati con la droga appena acquistata. Qualcuno per eludere i controlli consigliava all'assuntore di consumare lo stupefacente addirittura in cucina e abbiamo avuto poi qualche assuntore che a distanza di tempo ci ha detto che effettivamente prendeva lo stupefacente, lo pagava e lo sniffava, parliamo di eroina, in cucina. Qualc'altro diceva agli acquirenti di pagare lo stupefacente facendo degli accrediti dei mini bonifici su carte post-pay. Ancora cronaca, ma ci spostiamo nel Napoletano. Una bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte intorno alle 3 in via Casaconte a Portici. La deflagrazione ha danneggiato il cancello di ingresso in ferro di uno stabile a due piani e anche alcuni vetri di un edificio posto di fronte. Non ci sono feriti né danni a cose. Sul posto sono arrivati i poliziotti di Porti Circolano, la scientifica e i vigili del fuoco che hanno eliminato ogni situazione di pericolo per le persone. E adesso restiamo a Napoli, ma parliamo dei rifiuti che invadono sia il centro che le periferie. Napoli invasa non soltanto le zone perimetrali della città, ma adesso i sacchetti invadono anche le zone maggiormente turistiche come quelle di Rione Sanità e la zona dei Comani. Immagini che richiamano quelle di dieci anni fa, quando Napoli era alle prese con la più grave emergenza rifiuti della sua storia recente. Non siamo a quel punto, ma da circa tre settimane la situazione si è molto aggravata. Da Ponticelli a Pianura, Barra, Soccavo, centinaia di metri di immondizia sotto i palazzi, lungo le strade, davanti alle scuole. E poi il centro storico, mai ripulito da prima di Natale. Rione Sanità, i decumani, strade coperte dai sacchetti. Molti cittadini davanti a queste immagini scelgono di non fare più la differenziata, peggiorando le cose. Ieri sera la SIA contava tra le 250 e le 300 tonnellate di rifiuti in strada, in recupero rispetto alle 450 di martedì. Ma l'allarme rosso permane, al punto che per la prima volta in dieci anni Napoli ha chiesto alla regione Campania di conferire i rifiuti direttamente all'inceneritore di Acerra. 200 tonnellate al giorno, per tre giorni, e smaltire così il materiale a terra accumulato durante le feste. Un modo per bypassare gli stir, ed è l'unica strategia possibile al momento, visto che la città di Napoli resta senza un sito di trasferenza dopo la chiusura dell'ex ICM nella zona est, utilizzato in malo modo per otto anni. Il sindaco De Magistris scarica tutte le responsabilità sulla regione. Abbiamo avuto un momento molto critico dopo l'epifania, ma non si può parlare di disastro, dichiara il primo cittadino. Il sistema è fragile, registriamo un'attenzione non adeguata da parte di chi garantisce i flussi agli stir, cioè la regione Campania. De Magistris ha comunque assicurato che si sta entrando nella fase di risoluzione della crisi. Restiamo a Napoli, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fortunato Sorraniello, ucciso il 13 febbraio del 2014 in un salone da barbiere nel quartiere Soccavo. Sono finiti in carcere Carlo Tommaselli, suo figlio Filippo, Antonio Megali e Enrico Calgano. Carlo Tommaselli, ritenuto a capo del clan Tommaselli Marfella, attivo a pianura, avrebbe deciso di uccidere Fortunato Sorraniello, figlio di Alfredo, detto biondo, ex affiliato al clan Grimaldi, per contrasti dovuti allo spaccio di droga nella zona denominata della 99 nel rione Traiano. L'omicidio ha avuto un effetto dirompente nell'alleanza dell'area Fregrea, segnando la rottura di alleanze storiche tra la famiglia Sorraniello e il clan Vigilia, dal momento che i Sorraniello sospettarono che i Vigilia avessero consentito l'omicidio di Fortunato sul loro territorio proprio a Soccavo. Ancora cronaca, un avvocato, due giudici di pace, un medico dell'Oretomare nella cricca dei falsi incidenti stradali, dieci le ordinanze del GIP a capo dell'organizzazione Ciro Gioia del foro del capoluogo Irpino. Vediamo. Un avvocato, due giudici di pace, un cancelliere e anche un medico dell'Oretomare, a capo della gang specializzata nei falsi sinistri e nelle truffe alle compagnie di assicurazione. A finire dietro le sbarre del carcere di Bellizzi, Ciro Gioia, 43 anni, originario di Napoli ma residente a Mercogliano, con studio al centro direzionale e a Mercogliano. Lui è ritenuto la mente dell'organizzazione. Va invece agli arresti domiciliari il magistrato dell'ufficio del giudice di pace di Santa Anastasia, Luigi Esposito, in una vicenda che vede sotto inchiesta il collega giudice di pace Marcello De Luca. Ai domiciliari anche il cancelliere dell'ufficio del giudice di pace, Raffaele Rea, e il figlio Domenico. Stessa misura viene applicata a carico di Mohamed Chamalier, origini siriane, medico all'Oretomare, ritenuto responsabile di aver fornito la propria competenza professionale per fabbricare falsi reperti sanitari, documenti necessari per strappare rimborsi per sinistri mai avvenuti. Decisiva la denuncia fatta da Napoli, dagli avvocati Mario e Luigi Tuccillo, fiduciari di generali assicurazioni, che qui in Campania è delegata la gestione del fondo di garanzia a vittime della strada. A finire ai domiciliari anche Salvatore, Nunzio della Ragione, Margherita Di Marzio, Adele Di Matteo, tutti a vario titolo ritenuti responsabili di aver partecipato alla messa in scena dei falsi sinistri. Ogni mese il sistema era così in grado di produrre decine di iscrizioni al ruolo di falsi incidenti stradali, un giro d'affari che avrebbe fruttato un milione e mezzo di euro nei soli due anni di indagine. Ciro Gioia, difeso dall'avvocato Raimondo Capasso del Foro di Napoli, sarà interrogato nei prossimi giorni. in quella sede potrà chiarire la propria posizione. Adesso andiamo a San Giovanni a Teduccio, Rionevilla, dove si è sfiorata la tragedia per il crollo di un soffitto all'interno della mensa di un asilo. È accaduto alla scuola Vittorino da Feltre. È chiuso il plesso, le tavelle del solaio sono piombate sui banchetti. Solo per un caso nella sala non c'erano i piccoli. A casa per le festività natalizie, sotto shock la preside che dice nessuna avvisaia, crepa infiltrazione, lasciava prevedere quanto accaduto. Si tratta della stessa scuola davanti alla quale venne ucciso un uomo che accompagnava a scuola suo nipote. Cambiamo argomento. Il presidente De Luca ha inaugurato il dragaggio del canale Bottaro a Scafati. Nel Salernitano oltre un milione di euro di fondi e stanziati per le bonifiche a contrasto dei fenomeni di allagamento. Intanto il governatore parla sulle prossime regionali e precisa. Basta alla politica politicante. Noi facciamo soltanto i fatti. Ci racconta tutto Sara Botte. Importante intervento di bonifica Scafati nel Salernitano per il canale Bottaro, stanziati dalla regione. Oltre un milione di euro per la messa in sicurezza del territorio. Simbolicamente questo intervento è l'inizio di quell'intervento gigantesco che dobbiamo fare su tutto il bacino del fiume Sarno. Un lavoro gigantesco che era a zero e che riparte. Siamo particolarmente soddisfatti e a Scafati anche perché, non ricordava il sindaco, abbiamo finanziato anche un programma di rigenerazione urbana. L'amministrazione prevede interventi molto interessanti. Tra le priorità, precisa il governatore, è importante anche intervenire per prevenire il dissesto idrogeologico in Campania. Noi abbiamo messo in campo un intervento di emergenza straordinaria impegnando centinaia di operai della SMA, l'azienda della regione, per fare una bonifica, ma davvero come lavoro di sommorgenza, prima delle grandi piogge, soprattutto nell'area di Poggio Marino, nell'area Vesuvia, ma è evidente che dobbiamo completare le reti fognarie e i collettori. Poi dobbiamo far partire le gare, quelle importanti, per i tre lotti del Sarno. Abbiamo fatto, credo, un lavoro importante di coordinamento con le amministrazioni comunali e di revisione tecnica dei progetti. Intanto si ci prepara alle regionali? L'importante è non perdere tempo con la politica politicante. Le devo dire che in questi mesi tutto il dibattito che c'è stato sulle regionali ha avuto una caratteristica. Non c'è stato mai un riferimento ai problemi concreti. E adesso parliamo del vero e proprio inferno trasporti patito nelle scorse ore a Napoli. Autisti che si rifiutano di uscire con i bus. Sospese 60 linee su 110, l'azienda avvia le misure disciplinari, ma intanto tutto partirebbe proprio da un'ispezione dell'ANM all'interno del parcheggio Brin, dove un autista era stato sorpreso a dormire con tanto distanza attigua con letto divano. Intanto c'è il pugno duro di De Magistris che annuncia o cambia tutto o chiudiamo l'ANM. Caos trasporti a Napoli, polemiche sui dipendenti. Dopo il fermo di 60 corse sulle 110 complessive, la paralisi dei trasporti in città e scattano i provvedimenti disciplinari con De Magistris che minaccia la chiusura dell'azienda. 63 autisti che si sono rifiutati di prestare servizio per le condizioni dei bus che avrebbero dovuto condurre su strada. Intanto l'avvertimento del sindaco è chiaro. Se l'azienda non rispetterà gli accordi stabiliti, mantenendo standard di efficienza minimi, non avrà alcun problema nel chiudere proprio l'ANM. Ma interessante il retroscena dello stop. Secondo l'azienda, tutto sarebbe partito da un controllo dell'ANM nel parcheggio Brin due notti fa. Gli ispettori avrebbero sorpreso un autista a dormire su un bus alla cui guida avrebbe dovuto trovarsi. E dall'ispezione è emersa un'altra irregolarità. Nel parcheggio è stata trovata una stanza arredata con divano scrivania credenza, un piccolo vano che l'autista avrebbe arredato a sua stanza personale e di cui pare avesse le chiavi. Secondo l'azienda dunque si è trattato di una rappresaglia proprio per l'ispezione. Gli autisti hanno motivato il rifiuto con presunti problemi ai mezzi. Non c'è nessun blocco di servizi. C'è stato un'escalation di questioni legate alla manutenzione, quindi con una possibilità di mezzi che è un arrischio. Ci siamo meravigliati anche noi di questo picco all'improvviso sulla manutenzione. Ne abbiamo chiesto un pochettino in giro. Diciamo che c'è anche l'organizzazione del lavoro che non funziona, non sta funzionando bene e la maggior parte delle colpe sono a capo di ANM. Sicuramente non giustifichiamo il modo in cui è stata gestita la cosa, però non possiamo prendercela col singolo autista o singolo lavoratore. Si dovrebbero chiedere all'interno di ANM se l'organizzazione del lavoro è fatta e quella fatta bene. Adesso D'Avellino si indaga sullo rogo avvenuto questa notte in piazza Kennedy a prendere fuoco una macchina parcheggiata lungo via De Renzi. Si tratta di una Kia Sportage, è stata distrutta dalle fiamme che hanno danneggiato anche altre vetture parcheggiate vicino sul posto. Sono arrivati i vigili del fuoco e del comando provinciale che hanno spento le fiamme. Sull'episodio indagano i carabinieri, non è ancora chiara la matrice del fuoco. Si indaga a 360 gradi. Completata la fusione, la centrale del latte di Salerno entra a far parte a tutti gli effetti del gruppo New Lat. Ci racconta tutto Giovanni Battista Lanzilli. Un percorso partito nel 2015 che si è concluso ad inizio anno con la fusione della centrale del latte di Salerno nella S.P.A. New Lat Food guidata dal presidente Angelo Mastrovia. Il marchio campano si affianca dunque ad altre storiche aziende come Polenghi, Giglio e Optimus. Cambia la struttura societaria, ma non la mission, valorizzare le materie locali e fare dello stabilimento di Salerno il perno dell'azienda nel sud Italia, come spiega ad 8chanel 696 il presidente Angelo Mastrovia. Il latte di Salerno diventa una divisione di un'azienda molto più grande e a Salerno ci sarà la direzione per il centro-sud che raggrupperà ben 90 milioni di fatturato e che dirigerà tutte le attività che vanno da Roma fino in Sicilia con oltre 200 dipendenti diretti e con circa 90 milioni di fatturato. L'azienda più importante, più solida, più consolidata e capace di competere anche con questi grandi gruppi che vengono dal centro-Europa e dall'Europa a competere sui nostri territori. Per cui la nostra sfida è avere un'azienda forte che presidi il territorio del centro-sud in maniera, come dire, vigorosa per far sì che vengano tutelati i lavoratori e soprattutto la filiera del latte salernitano. I prodotti noi stiamo dedicando molta attenzione a due temi che uno è il tema della territorialità del chilometro zero come voi sapete, noi facciamo addirittura un latte che mettiamo a disposizione dei nostri consumatori entro 12 ore dalla mongitura, per cui un latte di grandissima qualità e dall'altra parte la centrale del latte da sempre e ancora di più oggi è assolutamente sensibile al tema plastic free. Intanto da Avellino pace fatta tra i commercianti ambulanti e il sindaco festa per la sede provvisoria per il mercato bisettimanale. Due le ipotesi, si parla di Campetto Santarita piuttosto che di Piazzale Kennedy in attesa della sede definitiva che è stata individuata e per cui si lavora a Campo Genova. C'è un'ipotesi mercato. Il colpo a sorpresa dell'amministrazione comunale che ha offerto agli ambulanti del mercato bisettimanale che si metteranno in regola con le imposte una soluzione temporanea per tornare al lavoro da martedì prossimo. Sul richiesta di Arvonio i venditori hanno proposto le aree di Campetto Santarita e Piazza Macello. Può andare anche bene, ma credo che crea problema il traffico. E' brutto perché non mi piace. No, non va bene. Perché è poco lo spazio per il mercato. Piazza Kennedy è meglio. Già l'hanno fatto gli anni precedenti. C'è da vedersi il fatto che ci sono anche i generi alimentari nel mercato quindi con lo smog delle macchine non va bene addirittura. Tutte e due le ubicazioni sono fatte bene perché in effetti anche loro devono guadagnare da vivere. Dove lo mettono, non mettono. Per me è indifferente. Ecco questo è il centro. E' qui vicino, è buono il mercato. Bastava lasciare il mercato lì e i pullman qui. Credo di no per lo spazio, per il parcheggio, per tante cose. Non credo che sia possibile. Non è che si può fare un mercato dove si allarga, secondo me. Campetto Santarita? Campetto Santarita non c'è parcheggio. E' l'unica città, Avellino, che fa due mercati settimanali, due volte alle settimane. Questo lo faccio presente al Consiglio Comunale e al Sindaco perché secondo me abusano un poco pure troppo che pretendono per quanto riguarda che vogliono assolutamente fare il mercato lì. è una cosa che per me non va. Intanto a Benevento, dopo le giornate ecologiche, si lavora ad un piano per il controllo delle caldaie. Ad illustrare tutte le iniziative per combattere lo smog è la Presidente della Commissione Ambiente Lombardi. Smog nell'aria resta alta l'attenzione a Benevento. Alle giornate ecologiche, alle chiusure alternate dei vari quartieri del Capologo Sanita per migliorare la qualità dell'aria si aggiungeranno presto anche i controlli sulle caldaie. A comunicarlo lo stesso Sindaco Mastella che con un post sulla sua pagina Facebook ha ribadito l'importanza di combattere lo smog e l'impegno a tutelare la salute dei cittadini. Quindi l'annuncio, ora bisognerà mettere mano a tutto ciò che produce danno alle persone. Un provvedimento a cui sta già lavorando la Commissione Ambiente del Comune. In realtà la Commissione Ambiente già in passato si era preoccupata appunto di sciogliere questo nodo caldaie che è un po' un punto interrogativo per quanto riguarda l'inquinamento in città. Noi come Commissione vorremmo iniziare a creare delle alternative a quello che sia le verifiche sulle caldaie cercando di non gravare troppo su quello che è poi il bilancio familiare Sicuramente il problema caldaie esiste nel senso che sicuramente è un contributo all'inquinamento anche perché negli ultimi giorni si stanno sforando di nuovo i limiti nelle centraline quindi questo vuol dire che non è soltanto il traffico cittadino che incide ma sicuramente anche quelli che sono gli impianti di riscaldamento. Iniziativa a cui seguiranno comunque nuove giornate di stop alle auto in città. La Commissione già la prossima settimana proporrà un nuovo calendario di chiusure domenicali al traffico sempre limitati a Rioni. Alba di sangue a Salerno per una rissa che ha visto coinvolti quattro cittadini stranieri i due tunisini sono finiti in ospedale con ferite d'arma da taglio tutto è accaduto in via Porta Rate Prandi nei pressi di Largo Campo nel cuore del centro storico di Salerno a far scattare le allarmi residenti che avrebbero assistito ad una scena da far west con alcuni nordafricani che si affrontavano brandendo coltelli e bottiglie sul posto dei carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e avviato tutte le indagini due tunisini attualmente ricoverati a ruggi d'Aragona non sarebbero in pericolo di vita. Panico ad Ariano Erpino a causa di uno sbalzo termico, elettrico scusate che ha provocato l'esplosione degli impianti nelle case per alcune famiglie è stata una notte da incubo senza riscaldamento, danni ingenti ma fortunatamente non ci sono stati feriti, ci racconta tutto Gianni Vigoroso. Guardava la televisione quando rimorre scricchioli per tutte le parti poi una botta forse qui sta a fianco ma ti giuro proprio una nottata e chi è dormuto. Uno scoppio improvviso, il fumo e in un attimo gli impianti elettrici distrutti nelle case per gli abitanti di Corso Vittorio Emanuele e D'Ariano Erpino è stata davvero una mara sorpresa c'è chi al momento dello sbalzo di corrente era in casa e chi invece si apprestava a rientrare per tutti è stata una notte in sonne. Blackout generale, ieri sera, tutto bruciato, stufa, elettrodomestici, tutto. Avete subito seri danni? Seri danni, sì, sì. Adesso vediamo che fare. Tornare a casa e trovare tutto un casino, casino proprio. Infatti è ancora una casa che puzza di fumo, scintille, tutto. Parliamo di danni ingenti? Sì, tv, frigo, impianto elettrico, caldaia, diciamo intorno ai 4-5 mila euro di danni. Sì, io sono stato quello che ha subito di più, quindi non so se è stato anche dovuto, visto che per esempio è vivente, attaccata la corrente anche lì sopra, quindi automaticamente... Bisognerà comunque accertare le cause? Sì, assolutamente sì, abbiamo avuto il sopralluogo dell'Enel, siamo stati con le forze dell'ordine fino a tardi e questo è quello che abbiamo subito, sperando in qualche cosa di positivo. Torniamo nel Sagno, è stato firmato questa mattina a Benevento il protocollo d'intesa tra il Parco regionale del Matese, l'Unisagno e il Collegio dei Geometri per valorizzare e tutelare tutta l'area interessata. Coniugare difese e valorizzazione del Parco regionale del Matese è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato questa mattina a Benevento presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi del Sagno, una sinergia a tutela dell'intera area ma che rivolge particolare attenzione anche alle possibilità di sviluppo del Parco. Già oggi con i suoi oltre 33 mila ettari il Parco del Matese rappresenta una delle aree di maggiore interesse per tutto l'Appennino centro-meridionale, è un insieme di risorse molto importanti e sappiamo pure che con la trasformazione da Parco regionale a Parco nazionale, probabilmente la superficie potrebbe addirittura triplicarsi. È necessario che tutto questo patrimonio venga messo sotto monitoraggio continuo ma è anche importante conciliare la difesa con occasioni di sviluppo anche economico. Un progetto importante dunque anche in vista della futura trasformazione del Parco del Matese in Parco nazionale e che coinvolgerà numerosi comuni sanniti. Fino a questo momento il Parco regionale è stato attrazione casertana, il Parco nazionale sarà attrazione beneventana perché saranno 19 circa i comuni inseriti nel perimetro del Parco nazionale e quindi l'opera che sta facendo l'università insieme al Collegio dei Geometri è assolutamente di primaria importanza in questo momento. Di qui anche il coinvolgimento del Collegio dei Geometri. Ci sta da organizzare praticamente un ente a livello nazionale, bisognerà rappresentare il territorio, bisognerà mappare, ricercare. Noi vogliamo essere di supporto. La sfida della stampa locale nell'era di internet in provincia di Salerno è il confronto per le prospettive dell'informazione legata alla carta stampata alle prese con quella che è in tecnologica. Una prospettiva la può dare solo la qualità in un momento in cui nessuno ha la ricetta per capire come i giornali possano sopravvivere alla rivoluzione tecnologica. È stato questo uno degli argomenti di cui si è discusso a Salerno in occasione della presentazione dell'edizione locale del Quotidiano del Sud. Internet probabilmente ha indebolito la carta stampata, l'ha ferita ma non l'ha uccisa. Carta stampata e web devono viaggiare in sinergia, non c'è niente peggio di una contrapposizione. Se viaggiano in sinergia la carta stampata recupera, cresce come vediamo oggi e il web si consolida. Credo che la stampa quotidiana da un po' di anni abbia commesso l'errore di replicare l'informazione che è un'informazione per definizione rapida, forse più superficiale ma immediata e che riesce, come dire, a bypassare le categorie dello spazio e del tempo facendo leva sulla simultaneità. La qualità è l'unica arma vincente in questo periodo in cui tutto il sistema dell'informazione è in grandissima crisi. Diciamo dal 2008 ad oggi le copie in edicola si sono praticamente dimezzate. Quindi ogni iniziativa editoriale è un'avventura ed è un atto di coraggio da parte di chi la intraprende. Da parte mia è davvero tutto, grazie ad Aldo Fenizia in regia. Vi lascio al Tg Sport con Carmine Quaia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.